Gli approcci a freddo sono quasi sempre sbagliati, ma ci sono alcuni tipi di approccio che possono fare la differenza. Lui sta puntando una donna, sta chiedendo informazioni su di lei senza chiederle direttamente a lei. Quindi le sta chiedendo al suo barman di fiducia. Aveva preso due cocktail che il barman gli aveva consigliato e si stava dirigendo verso di lei. Nel momento in cui si sta dirigendo verso di lei, un altro va ad abbordarla e lui ovviamente si siede. Ho visto che il tuo bicchiere scendeva di livello e mi sono preso la libertà di portarti un altro martini alla mela. Grazie. E poi ho notato che tu somigli un sacco alla mia prossima fidanzata. Lo so quanto coraggio richiede attraversare un locale simile e stabilire un rapporto basato sul niente, quindi non prenderla come un fatto personale. Lo sai che hai dei fantastici occhi. Grazie, cerca di ascoltare. Io non ho niente contro di te, solo che non sono interessata. Ma tu sei sempre così chiusa e timorosa che l'uomo giusto possa farti sentire... Sentire una vera donna? Scusa il ritardo, amore, non trovavo un taxi. Come è andata la rinchi? Qua è un po' da film, però lui va a rompere lo schema in maniera geniale e fa finta di essere il suo ragazzo. È molto complicato farlo perché la donna ti deve capire, deve capire perché sei andato lì, perché ti spacci per il suo fidanzato. Però è possibile farlo anche nella realtà. Da un certo punto di vista è molto difficile per un uomo anche solo pensare di avvicinarsi a una donna come lei. Qui fa un errore, che è quello di darle tanto valore. A una donna che è già un ego smisurato, è un erroraccio. Vai solo a confermare che lei ha un valore più alto di te. Questo è un approccio molto da pick-up artist, da artista del rimorchio, che io sconsiglio. Niente orecchini, tacchi quasi spianati, capelli tirati indietro, porta occhiali da lettura ma non ha un libro. E beve un Grey Goose, che vuol dire che ha avuto una settimana dura e una birra non poteva bastare. E se non fosse ancora chiaro è sufficiente il vaffanculo che porta stampato in fronte. Qui è geniale perché poi dopo il primo complimento iniziale va a colpirla sul look, no? Le dice che è vestita da sfigata, che ha gli occhialini, i capelli raccolti, tutte queste cose qua. E finisce con il vaffanculo stampato in faccia e questo la fa ridere e le fa capire che questo ragazzo ha qualcosa di più, no? Cioè l'ha guardata oltre l'aspetto fisico. Perché chi può credere che esiste un uomo in grado di sedersi accanto a una donna che non conosce e seriamente interessarsi a chi è e che cosa fa senza nessun secondo fine? Io non riesco nemmeno a immaginarmi com'è. E che cosa direbbe un tipo del genere? Lui va a distaccarsi da tutti gli altri uomini e le dice non sono qui solo per il tuo aspetto, sono qui per conoscerti, sono qui per cercare di andare oltre. Beh, direbbe mi chiamo Alex Hitchens e sono un consulente. Ma a lei non interesserebbe perché probabilmente non vede l'ora che lui si tolga dai piedi. Ritenendo che pure lui è come tutti gli altri. Il che come la vita le ha insegnato è una virtuale certezza. Ma poi lui le chiederebbe come si chiama e che cosa fa per vivere e lei potrebbe mandarlo al diavolo? O potrebbe dire Mi chiamo Sara Melas, tengo la rubrica Pettegolezzi sullo standard. E allora lui farebbe tante domande intelligenti in proposito perché è seriamente e ancorché insolitamente interessato. No. No. Sarebbe interessato. Ma capirebbe che non c'è nessun modo al mondo di poterla convincere che fa sul serio. Qui lui sta lavorando sulla convinzione limitante che è lei che tutti gli uomini sono interessati al sesso, no? Sta andando a superare le sue obiezioni. Le dice guarda, tanto secondo te non sarò mai interessato a quello che sei realmente ma sono come tutti gli altri, no? E vedete questo gioco che piano piano la sta facendo aprire. Lui sta anticipando quelle che sono le sue perplessità, i suoi dubbi, le sue barriere, no? E questa cosa comunque fa andare avanti la conversazione. Potrebbe essere spiritoso, affascinante, piacevolmente originale. Non aiuterebbe. Ma non è odioso quando succede così. Non direi. Probabilmente i due continuerebbero a vivere la loro vita come la vivevano prima e penso anche che se la caderebbero. Sta sminuendo quello che potrebbe accadere, no? Praticamente la sta scaricando lui da genio. Le ha fatto vedere, le ha superato tutte le sue obiezioni, tutto quello che lei stava pensando in quel momento l'ha fatta sentire capita e compresa. Quindi ha triggerato quella che è la sua attenzione e in quel momento prende e fa la scadenza programmata, come diceva Misteri, no? Che è quel momento in cui lui va via e la lascia lì al picco emozionale, nel momento del picco emozionale. Quando lei stava per aprirsi, lui prende e se ne va via. E lei si sente sconfitta, no? Quella proprio un genio. Le manda quello che stava bevendo nel momento in cui si alza perché si era già coordinato con i camerieri affinché nel momento in cui lui si fosse alzato i camerieri avrebbero dovuto portare il cocktail. Questo è stato un colpo di genio perché fa vedere quanta influenza lui abbia nel locale e quanto lui sappia capire i suoi bisogni perché se notate che cosa ha fatto il primo che ci ha provato? Gli aveva portato un martini, aveva sbagliato cocktail. Invece lui gli ha portato esattamente quello che lei aveva appreso precedentemente. Geniale. Vabbè, itch è itch, ragazzi. Non c'è niente da fare.